La politica è fatta di reciprocità anche nel senso deteriore del termine. È così che alla decisione di Mosca di allontanare tre diplomatici di Germania, Svezia e Polonia per il sostegno all'oppositore Navalny è seguito quasi immediato un provvedimento speculare. Berlino l'ha annunciato, Stoccolma ha già chiesto la partenza di un funzionario dell'ambasciata russa e stesso percorso ha intrapreso Varsavia. Lo strappo arriva in un momento di forti tensioni tra Europa e Federazione Russa, esacerbate dall'arresto e dall'incarcerazione del leader antiputin Alexei Navalny. Un ulteriore smacco a Bruxelles è legato alla scelta di tempo. La Russia ha infatti deciso le espulsioni proprio durante la visita dell'alto rappresentante della politica estera europea, Giuseppe Borrell, che a Mosca ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Le decisioni di Polonia, Germania e Svezia sono infondate, ha in ogni caso commentato la portavoce del dicastero russo degli esteri. Sono provvedimenti non amichevoli e rappresentano la continuazione delle azioni che l'Occidente sta assumendo nei confronti del nostro paese e che noi qualifichiamo come interferenza nei nostri affari interni.